guarda che questo il como è perfetto la nostra sala arriva presto al fil del muro allora sei tonta non so varta la sala o questa ma per ugualtami la sala si si è spicchietta al vei perché che questa c'è tre muri e la nostra scena 4 ma hanno detto che tu qui in fondo adesso qui la sinistra rosa o blu? rosa blu ma che cazzo me lo mandi a fare allora? l'ho misurata in 5 palmi ah adesso misuriamo i palmi ma che hanno? palmi americani palmi europei? pronto? è il 118 salve non è che dita più alla mia moglie non capisci più un cazzo ma ti coinvolgo se tu hai i gusti di merda cocco no tu mi coinvolgo solo per carcarmi come insomma ero allora io ho chiesto due al bagno un maticchera qua quell'altro maticchera dalla ica e cadossi volevo di lavrindo a provarlo vanta la pesca che ci ha scorreggiato alzati! l'hai inculata la matite? ma volevo di che ci facciamo? tu frega pifiro di nuovo è ingratis arvetta le candeli secco i cani da caccia quando venghi una pum! tu dicci batta la macchina basta che bassemi i sedili dietro ah ma allora non è che tocca abbassarli tocca lavalli carpilli fuori a sbudellarli quelli davanti e quelli dietro tocca che avrai il motore carpi sportelli sega il tetto della macchina e tanto non so sai oh forza dai che ne fai più giri ah lì che pugnetta sta frega ikea dove i sogni si trasformano in bastegne io sono tu se io vò tu veta a l'uto a metà te! e a me lo so ti vuoi? ma beh chanel sonne exce taluta metà te! io sono tu se io voto veta luta metà te! Grazie a tutti.